Ciao, oggi vi mostro come disegnare gli occhi di un alieno. Partiamo! Iniziamo da questo extraterrestre con gli occhi a mandorla molto allungati. Così. All'interno gli occhi sono tutti neri, come quelli degli squali. Per farli sembrare vivi vi consiglio di disegnare dei riflessi di luce. Non è difficile. Basta lasciare delle forme bianche all'interno dell'occhio, un pallino in basso, una virgola allungata e un'altra goccia più piccola in alto. Lo ripetiamo su entrambi gli occhi. Quest'altro alieno invece è un unico occhio gigante. Lo facciamo come quello di un serpente. Facciamo prima due riflessi, un cerchio più grande e uno più piccolo. Al centro facciamo due mezzelune per fare la pupilla verticale. Poi l'iride. E infine le venuzze rosse. Il mio momento preferito. Si colora. Ecco fatto. I nostri alieni sono pronti. Ci vediamo all'Officina dei Mostri.